Ma la Libia non era un porto sicuro? Qualcuno sta scherzando col fuoco per motivi economici, egoismi economici nazionali, senza le fughe in avanti di qualcuno che fissa date elettorali, che bombarda a caso e che dichiara a caso. Ma insomma, io non voglio commentare sempre dichiarazioni del governo, penso che ci sia una situazione drammatica in Libia per la quale non bastano selfie o dirette Facebook, serve un ragionamento di politica europea. La Francia che ci ha lasciato questa situazione in Libia facendo una guerra che non era stata richiesta di nessuna è andata unilatermente in Libia. Non è un porto sicuro, l'unico problema è un altro, non ho capito bene se il ministro dell'Este è Salvini o se il ministro dell'Este è Moabero. Bisognerebbe capire chi dei due invece va in Libia.